Oh, 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 oh. Una volta ebbe una lombagine peggiore della vostra. Giorgio, il mio primo marito, me la curò così. Vi guarì? No, almeno non subito. Aumentai un po' in altera. È meglio chiamare il dottor Forbes. Non vi farà mai bene quanto la cura mia. Ma non c'è proprio altra cura che la vostra. Ora respirate. Sospirate. Così. Così. Che vuol dire così? Così sarò sepolto. Giratevi. Girarmi? Non posso neanche chiudere gli occhi. Oh, mi prego. Signora, mi arreddo, ecco. Vi farò un regalo, vi darò un aumento. Una distilleria. Rilasciatevi. Rilasciarmi. Ecco qui. Ecco qui. Dove avete imparato questa cura? Dai, Mau Mau. Ora vi preparo una bottiglia calda speciale. Cosa c'è di speciale? Il miglior rimedio per i lombi. Vi farà girare un po' la testa. Ah, bel rimedio. Così ci girerà la testa tutti e due. Non vi muovete ora. Magari potessi farlo. Mi porterò sul pranzo con un vassoio. Mi dovreste comprare un busto ortopedico. Quando i lombi non vanno, si hanno fastidi per tutta la vita. Vieni, Filippo.